Il puerperio è quel periodo che inizia subito dopo la nascita del bambino e dura all'incirca sei settimane. In questo periodo la donna subisce delle modificazioni di carattere clinico e anche a livello psicologico. Dopo la nascita del bambino avviene il secondamento, cioè la fuoriuscita della placenta dall'utero. In questo periodo della durata di due ore la donna viene controllata dall'ostetrica per quanto riguarda le contrazioni dell'utero, la fuoriuscita dei locchi, quindi le perdite di sangue e i parametri clinici.